Iva storica conduttrice di ok il prezzo è giusto ma che domanda Zanicchi La grande Zanicchi Che bello E il pubblico gridava 100 100 100 Ciao Iva un abbraccio 90 vediamo un po' Vediamo un po' Ce la fa E con noi Iva Zanicchi Grazie Grazie e buonasera a tutti Che carini Grazie per questo bellissimo applauso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti